ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo retro game di e simpson il videogioco oggi riprendiamo guardato un po il tutorial per prendere tutto allora vediamo se sono ok e quando guarda i clic che io ho cercato qualcosa ma non trovo nulla riguardo purtroppo per i tappi e le cose collezionabili sì allora però abbiamo preso tutto a oggi recupereremo anche il livello di prima allora qua se l'uomo Duff avesse finito gli studi l'uomo Duff sarebbe molto molto lontano da qui come molte comodità moderne il sivo fu inventato dai romani non pensavo che a parte fosse così ben messo andale andale oh super polpetta ti conoscivo appena e che cavolo allora perfetto no ebbacca cavolo ebbacca cavolo ebbacca cavolo muscoloso pazzo ubriaco in arrivo un piccante che la c'è l'altro click e l'altro che è l'altro collezionabile e in teoria abbiamo preso tutti i collezionabili qui è improbabile che ci riesca ma ci provo no non ci arriva infatti ok cosa c'è? allora per quanto riguarda il livello di prima c'è il click che è quello di Omer se non mi parlo quello di Omer no quello di Bart che mancava mi parlo di Omer era nascosto in un posto che io essenzialmente non pensavo che potesse esserci un passaggio segreto a dettura il click che si trova anche lì quindi tutte e due sono nello stesso posto sinceramente sto video potrebbe durare veramente poco perchè poi farò dettagli per evitare tutto il passaggio di quel livello vediamo la stessa parte e allora è qua c'è nessuno? stiamo assistendo a una lezione sulla sovralimentazione dov'è Omer? ah Omer decisamente lontano Omer non tanto però non credo di aver mai visto qualcosa di così bello Bart è tornato gli usa? o li ami o li mani? finalmente la signora libertà lo sentirà domani mattina cioccolato prendi questa simbolo dell'orgoglio e della libertà nazionale dov'è punto da colpire? dov'è punto da colpire? che cavolo l'ultima parte è un problema che farebbe? cioccolato la signora libertà ha ricevuto un duro colpo Omer ce l'hai fatta? ops oh cavoli era la mia mano dominante ma sei stato grande comunque Omer l'uomo d'affa è orgoglioso di proclamarti campione di mangiate estreme oh yeah e ora il campione uscente ti consegnerà la cintura del campionato Red Barkley dovremmo aggiustarla un po' Akira com'hai fatto a vincere sei così nano? tecnico e ora i perdenti dovranno ripulire oh yeah ma pazzi l'avete fatta esplodere ah maledetti che Dio vi spandesca all'inferno ok meno citazioni e più strofinaccio probabilmente ah no il clicchino è per esempio di tutti quindi questo è una vita al 100% perfetto ok adesso tornerò al menu questo però registrazione per evitare tutto il passaggio per rimettere poi il secondo livello allora qui ovviamente faccio un salvataggio nell'altro stop registrazione ok era questo io adesso devo fare un altro taglio per evitare ovviamente tutta la procedura anche si può saltare vabbè qua sto ok eccomi allora il passaggio si apre tramite queste pedane intoria e il passaggio ecco guardate guardate non lo vedevo che c'era lì un passaggio praticamente non lo vedevo e dovrebbe aprirsi in questo modo dov'è perfetto serve Homer però entriamo con Bart perché ora in teoria no non si è attivato il clicchè e forse perché c'è Homer dentro spacchiamo tutto no ok Bart è tornato tocca a me forse sta roba rimbocchiamoci le maniche grande non capisco cosa sia fuoco alle polveri no ma il clicchè non si sta attivando però non capisco il perché dovrebbe essere qui ah ecco ora si è attivato perfetto adesso qui ristoppo la registrazione perché l'ultimo oggetto collezionabile è alla fine del livello ok rieccomi allora in teoria forse qui l'errore che facevo è andare in cima e in verità non dovevo andare in cima ma dovevo andare un po' più sotto e a quanto pal mi faceva il doppio salto ecco vedete ecco perché non riusci a passare questa parte io prima nello scorso video e abbiamo preso tutti i collezionabili rimbocchiamoci le maniche e ti pareva che non ma ma ci asserà a parte ok qui non faccio più tagli perché sennò anche il video verrebbe troppo breve perché siamo praticamente alla fine se può dire la serve omer mi chiedo quale di queste palle sia il mondo allora e che cavolo ecco Bel colpo rospo secco Diventano macchine mortali Da combattimento così presto? Ah se mio padre mi avesse portato A cazzottare con lui Smettila di spaventarmi Con le tue strane abilità di scivolamento E catapulta Siamo solo Perfetto E anche questo lo abbiamo terminato Tre livelli fatti E allora Continua Non so se mi parte ora No penso che mi vada Nella casa Ok avviamo il quarto livello Però non lo facciamo Perché ovviamente magari Preferisco Documentarmi dove si trovano Le cose collezionabili Il problema sono I click che non si trovano Bart Papà dice che hai dei superpoteri E' fantastico Come hai fatto ad averli? Manuale Questo manuale ha implicazioni metafisiche sconcertanti Dobbiamo consegnarlo alle autorità preposte Potremmo farlo Ma non ti piacerebbe prima sapere quali sono i tuoi poteri? Ho dei poteri Wow Con queste capacità posso diventare una paladina della giustizia sociale Oh cielo possiamo saltare questo livello? E dai sarà divertente Potrei fare del male a un sacco di cattivoni Se ci sarà da fare casino Quindi abbatteremo tutte le foreste di Springfield E trasformeremo ogni albero in un singolo stuzzicadenti di lusso Bella idea signor Mars Solo una domandina Questo non provocherà un disastro ambientale? Se vuoi fare un omelette devi distruggere un paio di pianeti Bendetto signore Bendetto Prendeteli Allora Controlliamo che non ci sia nulla qua intorno Un lavoro impegnativo rende felice il lavoratore Qua vedo uno scudo potrebbe servire Allora là sopra c'è una cosa di Bart E allora Fammi pensare là sopra è una cosa di Bart Non so proprio come andarci là sopra Arriba Lisa Ah la centrale ha un odore buonissimo oggi Gli ambientalisti possono baciare il mio eco posteriore Bart è tornato Come si può non amare il signor Burns? Cioè il vostro misterioso Quello che vogliamo è rovinare il tuo Sapete combattere è un po' con l'ora E che cavolo però dai Non riesco a salire veramente Perfetto Ok Lì sei morta Perfetto Dove sono quei tizi? Ah ok da qua vengo Perfetto Perfetto Ah io non so perché serva quello Per essere Quasi mortale Qua sopra non ci va vero? Ok Allora Usiamo Lisa Forse qui E questa immagine qua Come si può non serviva Il signor Burns Cioè il signor Burns Cioè il vostro misterioso leader Spacchiamoci le maniche Ok guardiamo bene qua Ok qua non ci va La zietta è tua Come brillano quegli uomini Un lavoro impegno sopra e indeferito il lavoratore Ok io non vedo comunque nulla Dei collezionabili La mia centrale sta funzionando perfettamente Questa fabbrica è una meraviglia Come brillano quegli uomini Sapete combattere un po' come ballare Che non c'è nulla Uh là c'è una cosa di Lisa Dov'è? L'avevo vista E qua sotto ok Perfetto Ok vabbè da ci fermiamo qui per oggi Così che almeno Così almeno vedo se riesco a trovare Così che mi informo dove potrebbero essere le altre collezionabili Va bene Qui salva Si è salvato? Si Va bene Se il video vi è piaciuto vi invito a lasciare un mi piace Noi ci vediamo alla prossima Ciao 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 Ciao